Operazione Concilia, questo il nome di una lunga e complessa attività d'indagine della Guardia di Finanza di Pesaro che ha portato alla denuncia per corruzione dell'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro Urbino, ora in pensione. Si tratta di Elio Borrelli, dirigente che ebbe un periodo di reggenza negli uffici pesaresi fra il 2015 e 2017, anno in cui fu arrestato per simili reati nel suo precedente incarico all'Agenzia delle Entrate di Venezia. Dal Veneto l'indagine si propagò a Pesaro dove le fiamme gialle già tre anni fa avevano cominciato ad indagare su possibili episodi di corruzione e concussione del dirigente. Dagli elementi investigativi acquisiti è parso evidente l'atteggiamento di Borrelli, che fin dal suo arrivo a Pesaro si è adoperato nel tessere rapporti con autorità locali, professionisti e imprenditori con modalità confidenziali e finalizzate a ottenere favori personali. Dagli accertamenti fiscali sono emerse situazioni particolarmente vantaggiose per i contribuenti interessati fra risparmio di imposte e consanzioni in danno all'erario. L'ex direttore imbastiva infatti uno scambio di favori per trovare posti di lavoro alla figlia, alla compagna e al nipote della stessa compagna. In cambio garantiva forti abbattimenti di base imponibile ed imposta. Oltre alla denuncia Borrelli sono state rinviate a giudizio otto persone, fra cui amministratori, soci e consulenti aziendali, alcuni residenti nelle altre province marchigiane, altri in campagna, ma tutti desiderosi di procurarsi questo rapporto con un alto funzionario dell'Agenzia delle Entrate. La Guardia di Finanza di Pesaro ha però specificato come il dirigente abbia sempre agito nella cura dei propri interessi senza il coinvolgimento di altri funzionari dell'Agenzia delle Entrate. In totale l'attività investigativa ha permesso di quantificare una sottrazione di circa 1,2 milioni di imponibile e 480 mila euro fra imposte, sanzioni e interessi alle casse dello Stato.